Francesco, siamo in triennale per indagare un tema e adesso che cosa succede? Che cosa succederà nel design nei prossimi anni? Beh, io faccio riferimento a una intervista che aveva fatto Charles Sims diversi anni fa, nel 1969, dove si concludeva questa intervista con una domanda, qual è il design del futuro? E non c'è risposta. Beh, non c'è risposta perché secondo me il design è dappertutto e in qualche modo corrisponde a questa dimensione di complessità con cui ci stiamo confrontando nella quotidianità è un design che non ha più mappe, ha bisogno di ridefinirle costantemente quando le trovi disponibili ed è un design che in qualche modo si deve appoggiare su utilizzo di bussole che sono bussole legate ad alcuni elementi principali del design Un altro aspetto riguarda l'attenzione non solo alla persona ma alla relazione tra le persone io penso che il futuro sarà sempre più concentrato su come migliorare la relazione tra persone e come attraverso questa relazione sia migliorabile la qualità della vita di tutti quanti noi e come attraverso questa relazione sia migliorabile la relazione tra le persone